Dovranno rispondere di contraffazione aggravata e uso di segni distintivi di prodotti industriali in concorso, due pregiudicati di Barletta, un 41enne e un 32enne, arrestati dai carabinieri. Durante un servizio specifico in un deposito che si trova in contrada a Tittategna, i militari della compagnia di Andria hanno scoperto un vero e proprio laboratorio clandestino del falso. Oltre 200 i capi di abbigliamento sequestrati, tra i quali giubbotti, maglie e camice contraffatte, con vari marchi noti, tra i quali Warwich, Ralph Lauren, Stone Island, North Sale, Fred Perry e altri. All'interno del laboratorio i carabinieri hanno trovato e sequestrato anche una macchina serigrafica e migliaia di etichette pronte per essere cucite sui capi. La perquisizione, estesa anche all'abitazione del 41enne, ha permesso ai carabinieri di trovare 7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Per questo motivo l'uomo è stato denunciato anche per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, il 41enne è stato condotto in carcere, mentre al 32enne sono stati concessi gli arresti domiciliari. Grazie a tutti.